Un altro ottimo consiglio è non dimenticare mai qual è il percorso che porta alla realizzazione di un progetto perfetto. Questo perché in realtà avete appena iniziato, quindi state prendendo mano con quelli che sono i sistemi moderni e attraverso la vostra trial avete fatto le prime vostre 50 chiavi. Quindi avete capito quali sono i processi di lavoro e ce lo desiderate. Siete anche pronti per terminare intanto il primo importante step, ovvero la realizzazione delle ulteriori 450 chiavi. Questo per andare ad arrivare ad una portata di un progetto che sia perfetto a livello di indice. Fatto questo il lavoro però non è finito. Si passa a lavorare diciamo di cesello andando a ottimizzare tutte le pagine istituzionali esistenti del vostro sito. Partendo proprio dall'home page che è la pagina più importante e terminando con quelli che sono gli articoli di un blog qualora nel vostro sito fossero presenti. Fatto questo per andare a concludere il progetto in modo assolutamente perfetto allora si andrà ad incrementare la portata delle chiavi dello stesso mediante un sistema engine che regge fino a 5000 chiavi. Così facendo il vostro sito internet a livello SEO sarà assolutamente perfetto. Questo è il motivo anche per il quale abbiamo predisposto una licenza che permette a tutti voi, chi lo desidera ovviamente, di poter continuare questo processo e terminare non solo la lavorazione sul proprio sito piuttosto che continuare a farne molte altre anche per altri siti web. Grazie all'attenzione e vi aspetto con il prossimo video dove andremo a spiegare meglio cosa significa gestire una licenza professionale a tutti gli effetti.